Siamo a Scafati per la presentazione del primo Memorial Carlo Longobardi, ospite d'eccezione per la presentazione anche della squadra qui a Scafati, squadra che sarà impegnata nel prossimo torneo di basket, il giudizio di Dan Peterson sul momento del basket italiano. Allora, c'è un po' la domanda del momento, qual è lo stato di salute del basket italiano dopo questa performa? Innanzitutto bisogna separare due cose, la nazionale e la lega, la nazionale ovviamente ha avuto una settimana molto difficile, rintensa rischiando molto ma come dico io hanno passato la settimana dove si gioca per non perdere e adesso entrano nella fase dove si gioca per vincere, due cose molto diverse, quindi le speranze sono aperte ancora, ovviamente ogni partita è una finale, uno che esce va a casa, quindi l'Italia ha le sue possibilità ma non deve pensare in avanti, c'è Israele e non deve pensare a chi viene dopo Israele e basta, quindi vediamo, poi c'è un'altra concorrenza favorita, sono Serbia, Francia, forse la Grecia, forse Lituania, forse la Spagna, quindi l'Italia non ha niente da perdere, questo è l'estate della federazione, la nazionale che stanno per me lavorando bene. La lega sta cercando di fare diverse cose, Nando Marino, tanto per dire presidente della lega, a ultimi due anni è riuscito a mettere la bella, la settima partita, sia 2-14 con Milano contro Siena, che quest'anno qui è Reggio Emilia contro Sassari, su Rai 3 per avere più pubblico, più esposizione, più audienze, eccetera, e hanno avuto, se non un milione, molto vicino a un milione di telespettatori, sia nel 2-14 che nel 2-15, queste sono iniziative che a me piacciono, ovviamente il grave problema del basso italiano è quello che riguarda gli impianti, non ce ne sono, io sono arrivato in Italia 42 anni fa, nel 73, il minimo di capienza che poteva avere ai tempi era 3.500, oggi è ancora 3.500, se uno va in Spagna, va in Germania, va in Francia, va in Austria, va in Turchia, ma anche 20, ma non solamente, ma impianti modernissimi, con ogni attrezzo immaginabile, come i cavi delle televisioni incorporati nel muro. Coach, veniamo però a Scafati, alla Campania, in questa manifestazione tra l'altro, Scafati, Avellino, piccole gemme del basket, medi in Campania. Queste sono, ovviamente quando io era nato fino all'87, erano realtà che non esistevano, quindi sono state due cose, ha citato Avellino e Scafati, che non c'erano ai miei tempi. Quando nascono queste realtà, e dirò anche questa sera alla gente che le cosiddette piccole realtà, anche se Scafati 80.000 persone, molto più grandi di Cantù, tanto per citarne uno, ok? Però quando nasce una piccola realtà, diventa grande, mi fa un po' pensare al basket scolastico del mio stato di Illinois in America, dove proprio quando c'è una buona programmazione, escono, vengono fuori questa realtà e queste sono state, per me, sia Avellino che Scafati, ma anche tempo prima a Caserta, capolavori veramente di programmazione, di società, di sempre un uomo a comando, Deus ex macchina, che dà una spinta e quindi hanno cambiato la geopolitica del basket, perché, ripeto, quando sono venuto nel 73, sotto Bologna, non c'era, Roma non era in Serie A quell'anno, era in Serie B, c'era Napoli, la Partenope in Napoli, però dopo Partenope è andata, dopo due anni è andata via, è tornata con un altro. Nel campionato di quest'anno, quale potrebbe essere la squadra, se c'è o meno, la mazza campionato? In Serie A stai parlando, ovviamente fino a provo contrario bisogna citare Milano, Sassari deve rifare tutto, ma anche Milano ha rifatto tutto, 10 su 12 sono nuovi, Sassari ha rifatto tutto, io dico che le due squadre più solidi adesso sono Reggio Emilia e Venezia, perché hanno tenuto gli stessi allenatori, un grande telaio, ovviamente Sassari ha tenuto Meosacchetti, Milano ha cambiato, c'è Repescia a posto di Luca Banchi, però Milano e Sassari sono due squadre in evoluzione, tanti nuovi elementi, bisogna vedere come vanno. Mentre Reggio Emilia con lo stesso telaio hanno perso Cincerino, ha perso Cervi, però altri giocatori sono uguali come prima, Venezia ha tenuto Recalcati e quindi lo stesso telaio Thomas Resquist, queste sono per il momento le quattro squadre che sono da temere. Qui a Scafati per presentare questa realtà accanto al padrone? Ovviamente è la prima volta che vengono a Scafati, fra l'altro, quindi stanno facendo le cose in grande stile, sono stato a Reggio Emilia l'anno scorso, il quarantesimo compleanno della società di Reggio Emilia, proprio in un teatro tipo questo, l'hanno fatto anche molto, ma molto bene e quindi quando tu fai una cosa così in un ambiente diverso vuol dire grande serietà, la gente viene non a un palazzo, ma viene a un teatro e quindi mi riconosco, se posso dire, padre fondatore, lui Deus Ex Machina è quello che ha creato questa realtà qui, abbiamo citato questo qui, ma anche entità come Capo d'Orlando, c'è città di 13.000 persone e queste sono realtà che per me fanno folklore nel basket, io sono amante di queste cose qui. Basket a Scafati che diventa tradizione grazie all'impegno della famiglia Longobardi e il patron Aniello ai nostri microfoni a sottolineare anche l'importanza delle sinergie sul territorio. Presidente, una serata, lo dice Adam Peterson, tutto organizzato in grande stile, segno di grande serietà, segno che c'è un progetto importante qui a Scafati. Sì, il progetto è un progetto importante, del resto sono 22 anni che io faccio il proprietario, il presidente, consideriamo che sono più di 15 anni che facciamo basket fra Serie A1 e A2, progetto serio, speriamo di fare sempre bene, cerchiamo di fare qualcosa per la nostra città, così un po' come la città fa per noi. Certo abbiamo una mano grossa dall'amministrazione, dal sindaco Pasquale Liberti, dal nostro main sponsor Giovanni Acanfora, la famiglia della Givova, e poi altri soci, altri amici, altri partner commerciali, altri che si sono aggiunti quest'anno che permettono di avere un progetto ambizioso e di far sì che Scafati rimanga nell'Olimpo del base. Il progetto ambizioso per festeggiare la grande è il quarto di secolo perché siete vicino, alle sue spalle, insomma, percorso, tappe importanti, dove ritrovarsi nel venticinquesimo anno? Ma è un progetto dove partiamo da molto lontano, è una società storica la nostra, abbiamo cercato sempre di fare il massimo, ho portato avanti un po' il progetto che nasceva un po' di anni fa, dal mio padre dopo che ha fatto il presidente, Prete, Michalizzo, dopodiché abbiamo cercato insieme a tanti amici di portare avanti questo progetto e quest'idea per far sì che sia Scafati un marcio indelebile nella storia del basket nazionale. In questa manifestazione, presentazione della squadra, ma anche il via rispetto a quello che è lo stato di salute della squadra, perché ci saranno già le gare con test probanti. Sì, test probanti, la memoria al Carlo Longobate è dedicata alla memoria di mio zio Carlo e abbiamo inteso noi come famiglia, con mio padre Enrico, con i miei cugini Nello, Fabio e Fabrizio, abbiamo voluto fare un qualcosa di importante, qualcosa che possa dare una mano anche a quelli che vengono di stare vicino a quello che è lo sport più bello del mondo e abbiamo istituito anche questa borsa di studio per il ragazzo del nostro settore giovanile che avrà più possibilità di mettersi in mostra non nel basket, ma nella scuola e nella vita di tutti i giorni scolastica. Facciamo al rovescio, l'impressione di Dan Peterson, grande organizzazione, grande stile. A questo punto invece dal patron, qual è l'attenzione rispetto al basket? Qual è l'aspettativa rispetto a quest'anno? Abbiamo un'aspettativa di arrivare fra le prime otto, fare i play-off, vogliamo fare sicuramente bene, abbiamo costituito una bella squadra, penso una squadra giovane, frizzante, molto veloce, un allenatore importante, un allenatore che ha vinto sei campionati, di cui quattro in a uno, dalla due in a uno, abbiamo un buon staff, un buon staff sanitario, un buon management e una squadra penso che possa darci delle soddisfazioni. È chiaro che ci sono anche gli avversari. Musica sul palco per la presentazione, per ricordare la figura di Carlo Longobardi. Al maestro, più che porre una domanda su quella che è l'attività cestistica, poniamo un'intervista utilizzando lo strumento. Qual è in questa serata la musica più adatta per presentare al meglio questa avventura, quella del basket a scafati? Ma io sono qui soprattutto per ricordare Don Carlo Longobardi, al quale mi legava una grande amicizia, che ho conosciuto nel 98 insieme a Luciano Rispoli. Lui ci ha tenuto tantissimo, insomma, al rapporto con me, io di questo sono molto onorato. Infatti poi dopo Rispoli, nel 2000, mi ha voluto al Costanzo Show e poi ancora, soprattutto, voglio ricordare quest'ultima aneddota importantissima, mi ha voluto con la mia orchestra per i 75 anni della Migros, un'azienda legata alla Longobardi che è in Svizzera. Il mio rapporto è indelebile, un grazie ancora a Don Carlo che ci guarda dal cielo. Possiamo chiedere soltanto qualche nota per ricordare Don Carlo? Sì, lui era appassionato ad un po' di pezzi, infatti faremo Malafemmana di Totò, faremo ancora Indifferentemente, che lui amava molto e poi c'era, che dire, per esempio il pezzo che ci ha fatto conoscere a Dischia con Luciano Rispoli, che è questo qua, insomma, l'accenno solamente. Sindaco, partiamo da un aspetto sportivo, sociale, culturale di questa serata, lo diceva il padrone Longobardi, si opera, si lavora in grande sinergia con l'amministrazione comunale, c'è un grande ruolo dell'amministrazione, perché un po' l'amministrazione è il basket tra Scafati, Scafati e il basket. Il basket non soltanto, io credo che lo sport in genere sia un modo come un altro, ma soprattutto un modo sano per veicolare l'immagine positiva della città. Benvengano queste iniziative, dobbiamo noi ringraziare le società, i dirigenti, i presidenti che mettono passione, tempo, soldi e investono nello sport, anche nei giovani, per portare fuori da Scafati l'immagine positiva della città. Dicevo l'aspetto sportivo, quello sociale, quello culturale, perché Scafati, impegnata dal punto di vista sportivo, c'è però una manifestazione, quella che ricorda Carlo Longobardi e c'è un aspetto sociale importante perché c'è il riconoscimento di un impegno per la comunità. Lo sport è una grande figura, la figura di un personaggio che è un pezzo di storia della nostra città, soprattutto da un punto di vista imprenditoriale, ma non soltanto da un punto di vista imprenditoriale. Don Carlo Longobardi, ma anche la famiglia, l'anima, la passione, l'energia che ha messo in questi anni nello sport, nel basket in particolare, ma anche nel mondo dell'imprenditoria perché insomma chiaramente poi ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una parte importante dell'economia che si muove, dell'economia che produce e anche dell'economia che crea lavoro. Luca, possiamo soltanto immaginare il piacere di stare qui a Scafati in una serata in cui si celebra un po' la storia, si presenta la squadra, ci si avvicina alla stagione e poi accanto a un mito del basket come Dan Peters. Eh sì, ci sono tanti ingredienti interessanti per rendere il suo piatto appetitoso. Io ormai sono un abituato perché qui a Scafati il basket ormai lo seguo da tanto tempo e niente, sono contentissimo, sono un grande appassionato di basket, tra l'altro la nazionale agli europei sta riaccendendo entusiasmi incredibili e quindi stasera si riaccenderà il grande entusiasmo del pubblico di Scafati, anche grande in questa occasione in cui si ricorda una figura importante per la storia della città. Quindi è bellissimo scoprire che tutti si ritrovano intorno al basket per parlare della città, per parlare delle giovanili, c'è una borsa di studio proprio per i più giovani e quindi tante cose belle. Domani si comincia in questo memorial con Scafati Avellino, gemme del basket campano che si fanno valere anche in tutta Italia. Eh sì, è bello ricordare quando Scafati è stato in Serie A e quando c'era il derby. Io tra l'altro sono di Avellino, quindi sono un grandissimo appassionato di basket e ho seguito alla grande leggesta della mia città, gemellatissima con Scafati e quindi c'è una simpatia che nasce e che si conferma di anno in anno. Un commento, una valutazione, la presentazione di Dan Peterson questa sera. Eh sì, ma è un grande, non lo so, io improvviso sempre, però per me è proprio emozionante, l'ho incontrato prima, ci siamo salutati ed è bellissimo. Io ricordo proprio quando ero piccolo, vedevo quelle partite di NBA, io andavo al palazzetto di Avellino, c'erano quei giocatori che in B2 non arrivavano neanche al canestro e sentivo Dan Peterson che raccontava le gesta di questi giocatori enormi che schiacciavano in quel modo. Sognavo un giorno di vedere una schiacciata dal vivo e fortunatamente il basket in Campania mi ha regalato anche questo. La storia del basket a Scafati che è durato oramai un quarto di secolo a grande livello merito del padrone Longobar. Ma Anello è un simbolo, girando l'Italia parlando di basket, gli addetti ai lavori lo conoscono tutti, lo apprezzano tutti e sono queste le figure che comunque riescono ancora oggi a portare avanti lo sport, le società, l'azienda dello sport in un momento così difficile. Quindi merito a lui, merito a tutti coloro che lo seguono, c'è una società fatta di tanti ragazzi giovani che giorno dopo giorno mi sorprendono veramente per la loro professionalità e per il loro entusiasmo. Complimenti a tutti quanti loro a cominciare dal grande capo fino al più piccolo.